vogliamo passare alla parola del signore oggi leggeremo un salmo vi chiedo anche di pregare per me perché intendo iniziare presto una serie di studi come abbiamo fatto nel nei mesi scorsi vorrei completare la serie di studi sui profeti minori questo ci offre la possibilità di sondare le verità della parola di dio in tutte le sue sfaccettature e ci aiuta a crescere nella conoscenza del signore quindi pregate per me perché quando poi inizio lo studio l'impegno è grande bene leggeremo un salmo vi dicevo e il salmo che prendiamo in esame oggi è il salmo 50 salmo 50 leggeremo l'intero salmo e poi mediteremo su quanto il salmo ci trasmette cose molto importanti perché ci parlano della della relazione tra i credenti e dio tra il suo popolo e dio e ci illustrano il modo in cui dobbiamo condurci così è scritto nel salmo 50 il potente dio l'eterno ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente da sion perfetta in bellezza dio è apparso nel suo fulgore il nostro dio viene e non se ne starà in silenzio lo precede un fuoco divorante lo circonda una fiera tempesta e gli convoca i cieli dall'alto e la terra per assistere al giudizio del suo popolo radunatemi dice i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante sacrificio sacrificio i cieli proclameranno la sua giustizia perché dio stesso sta per giudicare ascolta popolo mio e io parlerò ascolta o israele e io ti farò delle rimostranze io sono dio il tuo dio io non ti riprenderò a causa dei tuoi sacrifici i tuoi olocausti stanno sempre davanti a me io non prenderò giovenchi dalla tua casa né capri dai tuoi ovili perché tutte le bestie della foresta sono mie mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia io conosco tutti gli uccelli dei monti e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione se avessi fame non te lo direi perché il mondo con tutto quel che contiene è mio mangio io carne di tori o bevo io sangue di capri offri a dio il sacrificio della lode e mantieni le promesse fatte all'altissimo poi invocami nel giorno della sventura io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai ma quanto all'empio dio gli dice spetta a te di parlare dei miei statuti di avere sulle labbra il mio patto a te che detesti la correzione e ti getti dietro alle spalle le mie parole se vedi un ladro ti diletti nella sua compagnia e sei compagno degli adulteri tu abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua in tesse frodi ti siedi e parli contro tuo fratello diffami il figlio di tua madre tu hai fatto queste cose e io ho taciuto e tu hai pensato che io fossi del tutto come te ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi intendete questo voi che dimenticate dio affinché io non vi laceri e non vi sia chi vi liberi chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica e a chi regola bene la sua condotta io farò vedere la salvezza di dio il salmista prende delle visioni poetiche e le esprime per dare impatto alla forza la potenza la santità di dio e descrive un aspetto che in realtà nel corso della sua storia israele ha visto più e più volte è interessante notiamo nella storia di israele che poi si dividerà nei due regni del nord e di sud israele e giuda che le vicende che caratterizzarono la vita di questo popolo furono veramente assai tristi assai tristi sin dal tempo in cui giosuè lasciò la conduzione del popolo il popolo ha visto un inabissarsi della sua moralità e della sua obbedienza e questo scenario così poeticamente descritto con forza e con grande impatto emotivo in realtà si è realizzato ma si realizzerà ancora e si realizza dinanzi al popolo di israele ma anche dinanzi alla chiesa e quindi per noi è importante comprendere chiaramente qui nell'antico testamento noi siamo dinanzi a un patto diverso siglato con regole diverse il patto di cui sta parlando qui il signore era fondato chiaramente sull'osservanza della legge osservanza che fu abbandonata molto 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 presto per noi il patto siglato è un altro la promessa fatta a dio a altri aspetti perché fondata sull'opera di cristo ma comunque è un parallelo dal quale possiamo trarre insegnamenti preziosissimi anzitutto vediamo che il salmista richiama l'attenzione sulla santità di dio e sul fatto che dio essendo dio è anche giudice del degli uomini e c'è questa visione della chiamata di tutto il popolo abitante sulla faccia della terra dal cielo anche per assistere al giudizio del suo popolo e dio richiama il suo popolo lo fa presentare dinanzi a sé perché ha delle rimostranze a qualcosa da correggere qualcosa che nel patto siglato da parte del popolo non è stato rispettato e quindi viene per correggere viene per salvare viene per redimere e nella sua santità si presenta perché vuole che il timore del suo nome guidi e conduca i passi del suo popolo e questa visione è bellissima di dio che viene nel cielo attorniato da nubi da tenebre da una tempesta impetuosa carboni accesi che si muovono dalla sua presenza proprio per mostrare la sua santità la sua maestà la sua potenza e sapete uno dei problemi più grandi del popolo di dio fu proprio questo che smarrì il senso della maestà della gloria della potenza di dio quando in deuteronomio mosè ricorderà la manifestazione di dio sul monte oreb quando diede la legge e ricorda come il popolo tremava dinanzi a quella manifestazione ed era pronto all'obbedienza e si umiliava e era riverente dinanzi a dio dio disse dal cielo o foste sempre così foste sempre così foste sempre così per temere il mio nome e condurvi nella umiltà dinanzi a me e nell'obbedienza ed è questo l'aspetto il salmista introduce questo aspetto perché se io e te ci presentiamo dinanzi alla santità di dio e possiamo gustare conoscere la manifestazione della sua santità e maestà io vi garantisco che il timore di dio nel nostro cuore si accrescerebbe così tanto da portarci a camminare come mosè e giosuè a piedi scalzi dinanzi la sua presenza e questo aspetto è glorioso ed è indice di una realtà che è disarmante lo è per noi soprattutto perché vedete dio aveva stabilito la sua dimora in mezzo al suo popolo ricordate da prima il tabernacolo poi il tempio con salomone aveva stabilito la sua dimora e da lì si manifestava ricordate durante il pellegrinaggio nel deserto o nel giorno dell'inaugurazione di salomone la gloria di dio scese e quella gloria magnifica spingeva il popolo a prostrarsi dinanzi a lui a glorificare il nome del signore a lodarlo per la sua maestà ma oggi apriamo una parentesi per applicarlo alla nostra vita noi abbiamo qualcosa credetemi di più eccellente non parlo della manifestazione esteriore parlo della vocazione che ci è stata rivolta noi non dobbiamo andare presso un tempio sperando che la gloria di dio discenda dinanzi ai nostri occhi poiché noi siamo stati resi tempio dello spirito di dio noi siamo coloro che dovrebbero ospitare la manifestazione badate noi come credenti ospitiamo lo spirito di dio ma noi dovremmo ospitarne anche la manifestazione ricordate dio ci invita ad ogni modo a manifestare i frutti dello spirito nel percorso di santificazione di consacrazione con lui ma ancora ci invita a consacrarci a invocare dio a disporre i nostri cuori perché da noi si manifestino anche i carismi dello spirito quindi una manifestazione che non è solo del carattere di dio ma che è della potenza di dio e se questa vocazione sbiatisce o non si realizza guardate che capiterà a noi quello che capita al popolo man mano che la gloria di dio si spegne a causa della sua disobbedienza e della sua indifferenza e della sua freddezza man mano che la gloria di dio non si manifesta più inevitabilmente il cuore raffreddato farà passi indietro ed ecco perché è così importante per noi riconquistare la nostra vocazione e non dobbiamo dire si può vivere senza perché non è così perché o la gloria di dio si manifesta e con essa cresce in noi zelo passione amore obbedienza oppure se si spegne quella si spegnerà pure lo zelo la passione l'obbedienza e la santificazione e questo è un aspetto che il popolo più volte aveva sperimentato ed ecco qui il salmista che evoca di nuovo la gloria del signore e la sua maestà e lo fa proprio quando dio li chiama in giudizio perché li vuole correggere ed il salmista vuole proprio questo chiaramente parlo del salmista ma sto parlando dello spirito di dio che ha ispirato il salmista vuole proprio questo che noi consideriamo che la nostra condotta in ogni suo aspetto è sempre compiuta dinanzi la gloria del nostro dio maestoso e santo era importante per noi perché il suo silenzio per noi può essere motivo di fraintendimento e di inganno come poi vedremo più avanti e il signore è chiaro non riprende il popolo perché non gli offre sacrifici davide lo dichiarerà tu non gradisci sacrifici tu vuoi labbra confessanti il tuo nome tu vuoi un cuore puro tu vuoi l'obbedienza no come ci ricorda anche il libro di salmone di samuele l'obbedienza vale più che il sacrificio ma quello che dio vuole dal suo popolo e guardate che è bellissimo lo lo troviamo nel verso 14 non ti riprenderò per i sacrifici che tu mi dai o non mi dai quelle sono ombra di cose a venire ma non sono così importanti io non mi nutro né di sangue né di carne di animali ma dice offre a dio il sacrificio della lode ora qui c'è c'è qualcosa di meraviglioso che si apre ricordate quando la parola di dio dice può una fonte dare acqua amara e acqua dolce al contempo è possibile non è possibile ma c'è una cosa che più di questo ci fa capire il significato di questa affermazione intendo quando gesù afferma uniamo le due affermazioni una fonte non può dare acqua acqua dolce acqua amara ma poi gesù dice che la bocca parla di ciò che abbonda nel cuore e quindi se la bocca esprime la lode quella lode è gradita solo in virtù del fatto che la sua fonte l'origine cioè il cuore è anche puro cosa intendo dire una lode la lode di uomini donne bambini giovani anziani la lode espressa con le labbra che non ha però un cuore una mente una condotta che rispecchi questa lode è una lode che non ha significato infatti vedete il signore aggiunge ma quanto allempio egli dice aspetta a te parlare dei miei statuti e di avere sulle mie labbra il mio patto cioè se sei con un cuore empio volto verso il male lontano da dio lontano dalla santità le tue parole puoi parlare della legge puoi parlare del mio patto puoi anche lodarmi ma questo non ha significato e infatti vedete il verso 14 e il verso 15 descrivono un aspetto che è è veramente profondo per noi offri a dio il sacrificio della lode adesso approfondiamo questo argomento e mantieni le promesse fatte all'altissimo e poi invocami è dura questa parola è dura ma è chiara come come l'acqua è trasparente è palese chi vuole invocare il nome del signore chiunque invoca il nome del signore deve purificare la propria condotta è palese è chiaro non c'è ombra di dubbio tu stai invocando il santo e per quanto tu ed io non potremo mai esserlo perfettamente finché marciamo su questa terra pure la condotta del cuore è quello di chi si dispone all'obbedienza alla ricerca di dio è un cuore che brama è un cuore che loda dio non solo con le labbra ma con la propria vita ed è questo l'aspetto che voglio sottolineare e la lode non è solo quella che noi proclamiamo quando ci raduniamo insieme vedete la lode ad esempio attraverso i canti un gruppo di persone si incontra e comincia a lodare dio ma la lode che dio accetta è quella che sgorga da un cuore che lo loda sempre che quando è al lavoro che quando è a casa che quando si muove nella società le sue scelte le sue parole le misura e le decide in base a quanto queste rendano lode a dio perché non pronunci determinate parole perché non onorano dio perché non hai fatto quello perché non onora dio perché ti conduci e anche non permetti alla tua mente di vagare dove vuole o al tuo cuore di ricevere o ricercare o raggiungere ciò che vuole perché voglio onorare dio e allora se prendete due gruppi uno che ragiona a questo modo e l'altro che è un empio come descritto un gruppo empio cioè che sa cantare sa lodare ma che la cui condotta non è in ordine alla parola di dio è chiaro che tutte e due possono elevare la lode ma su chi poserà lo sguardo l'eterno quindi impariamo impariamo e c'è questo aspetto che viene poi presentato riguardo all'empio e dice ma quanto all'empio dio gli dice aspetta a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto chiaramente no a te che detesti la correzione e ti getti dietro alle spalle le mie parole certo no se vedi un ladro ti diletti nella sua compagnia questo non glorifica dio e sei compagno degli adulteri questo non glorifica dio tu abbandoni la tua bocca al male questo non glorifica dio e la tua lingua intesse frodi non può una fonte dare acqua dolce acqua amara ti siedi e parli contro tuo fratello e poi che fai lodi il signore di fame il figlio di tua madre ma guardate come prosegue ed è qui il punto che ci riallaccia all'aspetto principale tu hai fatto tutte queste cose e io ho tociuto e qui arriva alla tragedia e tu hai pensato che io fossi del tutto come te ora capite perché dico che noi ciascuno di noi abbiamo bisogno di ricercare la manifestazione della gloria di dio per non cadere nell'errore che essendo lontano dalla comunione con lui noi cominciamo a parlare in modo temerario ad agire in modo irragionevole a serbare sentimenti che dio odia e siccome dio rimane in silenzio noi diciamo vabbè ma dio dio la pensa come me e ci sembra di fare ciò che è giusto dobbiamo fare attenzione perché se vogliamo che la lode che noi eleviamo a dio sia gradita allora la nostra condotta deve essere conforme in ogni aspetto a lui cioè se sei decidi di lodare il nome del signore lo devi fare sempre non quando vieni in chiesa e se vuoi che la tua condotta sia santa sana e non cadere nell'inganno di confondere il bene con il male allora io e te abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore dinanzi la gloria e la ricerca di dio perché quando lo spirito di dio scende è come se capisci dov'è il tuo peccato lo capisci molto bene e ti metti le mani le mani sulle labbra come fece isaia e noi abbiamo bisogno di questo perché vedete noi come chiesa abbiamo molto da riguadagnare come anche si diceva in qualche qualche culto fa la domenica abbiamo molto da riguadagnare noi siamo chiamati ad essere il tempio dello spirito di dio persone potenziate dal suo spirito che manifestano i suoi carismi e la sua santità noi siamo chiamati ad essere appassionati predicatori della gloria e della grazia di dio ma noi siamo coloro che per primi devono rivestirsi di dio per onorare dio in ogni suo aspetto e allora fratelli allora allora ecco che che prima che dio ci metta tutto davanti gli occhi andiamo noi davanti all'eterno e chiediamogli signore apri i miei occhi chiediamoglielo noi perché non mi basta quello che ho perché le tue promesse sono più eccellenti perché non voglio essere colto dal tuo giudizio e trovarmi confuso dicendo non me ne ero accorto perché dio ci chiama ad essere vigili a vigilare ad essere attenti e infatti il verso 22 dice intendete questo voi che dimenticate dio affinché io non vi laceri e non vi sia chi vi liberi vedete l'intenzione di dio è sempre quello di chiamare al ravvedimento dio non vuole lacerare ma c'è bisogno di riscoprire e vedete quello che il signore vuole è chi offre il sacrificio della lode per glorificare dio regoli bene la sua condotta e allora dio ci farà vedere la sua salvezza e la sua gloria fratelli noi abbiamo da parte di dio un'opportunità infinita tanto grande che io non la so misurare non la sprechiamo cerchiamo il volto del signore orientiamo la nostra vita e concludo sottolineando ancora alcuni aspetti del verso 14 orientiamo la nostra vita verso la gloria di dio decidiamolo una volta per sempre che lo scopo della nostra esistenza è glorificare dio compiendo la sua volontà e e non accontentatevi mai fate come mosè che pur se stava faccia a faccia con dio 40 giorni e 40 notti quando ebbe l'opportunità di chiedere qualcosa a dio chiese di vedere la sua gloria perché quello di cui io e te abbiamo bisogno quello di cui questo mondo ha bisogno è che la gloria di dio discenda in questo tempio e non solo come chiesa ma principalmente nella nostra vita e credetemi fratelli e sorelle se noi ci accontentiamo di questo stato noi corriamo il rischio di camminare talmente tanto distanti da dio senza neanche accorgercene finché dio rimane in silenzio nella tua vita questo non è un segno che tutto va bene è un segno che siamo lontani da lui perché dio ha sempre qualcosa da dirci ha sempre qualcosa da trasmetterci ha sempre qualcosa da incoraggiare in noi per la crescita e per la sua gloria per l'opera sua in questo mondo e allora fratelli sintonizziamoci con dio e cerchiamolo con tutto noi stessi e decidiamo che fare di questa vita ma vi scongiuro nel nome del signore non la sprecate datevi degli obiettivi e questo obiettivo sia signore la tua gloria in me signore la tua gloria attraverso di me chiediamo il capo in preghiera e questo obiettivo è un po' e questo obiettivo è un po' Grazie a tutti.